ragazzi siamo qui per ricordarvi una serie di date che partiranno adesso da fine ottobre fino a fine novembre la prima a roma co e sessine in apertura di faramonch insieme a rapcore e er costa il 5 a legend di milano sempre co e sessine con cane secco rage e enzi il 12 saremo a sassari al vintage club sempre co e sessine il nostro showcase allora il 18 invece data importante al branca leone di roma ci sarà in apertura di b real broken speakers e collo del fomento qui arriviamo alla data ancora più importante per me perché ci sarà la presentazione del mio nuovo mixtape fenomeno mixtape compralo mori ora al barrios di milano quindi sarà il mio relais party sto leggendo perché regala sono bossa non mi ricordo un cazzo allora il 25 annesso quindi ci sarà anche il listening party quindi dal 25 in poi potrete trovare fenomeno mixtape scrivendo una mail a info oniro.it e da lì partirà tutto quanto il tour ufficiale quindi se qualche organizzatore in qualsiasi città vorrà trovare comunque cercare live di coes da qualche parte dovrà scrivere a info attoniro.it questo è tutto dal ragazzino uscivo di fuori dalla classe col passo felpato ho sempre aspettato che il mio treno passasse a tutti